Andiamo a riscattare queste riconvenze qua, che servono anche per i brawler, andiamo a fare sopravvivenza singolo, i personaggi con le missioni abbiamo, chi abbiamo? Tara, abbiamo Tara, ovviamente usiamo Tara. Vediamo se riusciamo a rompere questa cassa velocemente, attenzione a questa petta, è meglio che non lo dico di cosa, comunque le apette sono molto pericolose. L'unica cosa positiva è che ha poca vita, però se ci prende ce ne dobbiamo anche tanta, cazzo è sto cosa, mi è buttato per te, affanculo. Io sto perdendo tutta la partita presa a te, vaffanculo. E' meglio che rimaniamo a persona petta qui. Sono troppo forti gli altri, con un solo power non facciamo niente, anche i personaggi non è che aiutano, sono più forti del nostro. Dai apetta, dai, dai che stai per morire, dai che stai per morire, ti ho ucciso io però, il power è mio. Non si può andare da nessuna parte, cioè. Dobbiamo morire per forza, dobbiamo morire per forza, cioè. E' giusto che paghi? Ma vattene affanculo! Già cominciamo così, subito battaglia, manca il tempo di cominciare. Vai spalla, l'abbiamo preso, speriamo di non morire. Cosa cazzo? Mi sono rotto il cazzo. Io non ho capito cosa è successo in realtà, il cazzo di provare è quello. Ok, il signor cactus deve allontanarsi, il gentleman. Magari fosse solo quello. Io non so dove andarmene, siamo circondati, manco il tempo di cominciare le partite. Un gioco senza senso, di perdita di tempo totale, non hai una vita. E' più divertente bere una bottiglia di sputo! Madonna, è più divertente sprucciare la gobba di un macaco in calore, vascemo! Che ti piace? Finora facciamo finta di niente, alla fine non è successo nulla, non abbiamo perso, non abbiamo giocato mai. Vabbè, facciamo finta che sia stato così. Ok, rompici la cassa, rompicela, vai vai! Questo qua che si vuole avvicinare a noi, il bresler qua. Ma vaffanculo! Aiuto! Io non c'entro niente, io non ho fatto niente, non so niente. Dai che se ti tiro un colpo fai la fine che ti meriti. Che c'è scappi eh, quando io mi vicino ti sparo, scappi eh! Dove credi andare? Dove credi andare che tanto muori? Ma vieni qua, vieni! Ma figlio di tu... Ma veramente tu credi di battermi? Ma vedi a questo, ma vedi a questo se si fa prendere, vedi tu un po'. Ma che cazzo è? Ma perché il mio potenziamento non lo prende mai? Eccolo ti ho visto! Certo! Certo! Io poi mi devo incazzare eh! Attenzione! Funziona così la vita! Senti gelatino della minchia, vai a vendere i gelati con il cannoncino! Tu credevi che io mi fermassi lì eh? Ma che cazzo vuole quest'altro? E' meglio che non parlo! E' meglio che non parlo perché mi viene voglia di fare qualche cosa! Questa volta fatemela prendere in tanta pace questa cassa! Andiamo a vedere dove sono le altre, non lo so io non voglio sapere niente! Ci sono sempre questi qua che rompono i coglioni come sempre! Dove cazzo di bravo sono? Io non li ho mai visti questi qua! Ma tu proprio con me ce l'hai eh! E' certo! Certo! O in un modo o nell'altro ci devono mettere sempre nel... Forza c'è io mi sono rotto le palle nel figlio che non ci gioco più in questi gioco di minchia! Lo cancello proprio dal telefono! Ehi! Ehi! Folletto! Ma vai via dei coglioni per favore! Ehi! Guarda ti giuro che se mi uccideva in quel modo il telefono lo tiravo! Lo tiravo via dal dal balcone lì! Ma che cazzo non è possibile però ecco qua! Giustamente! Lui ne aveva pochi power up! Gli serviva uno in più per superarmi i propri figli! Ah! Ho vinto io lo stesso! Ho vinto io! Attenzione! Attenzione! Se vuoi prendermi prima ti devi aggiustare la mira! Perché sennò non facciamo mai niente! Ma per forza qui dovevi venire a rompere i coglioni! Vaffanculo! Ci hanno dato 100 blink che... Cosa cazzo sono sti blink? Io non li ho mai visti finora! I blink servono ad acquistare skin, reazioni... Ah! Aspetta! Intanto abbiamo quattro di questi cosi qua da ritirare! Intanto possiamo migliorare qualche browser forse! Vediamo perché c'è il numero in! Sì! Possiamo migliorare un quanto! Ah! Ecco! A Grey! Miglioriamolo! Fare una partita a KO! Vediamo se... Buh! Riusciamo a vincere almeno qui! Visto che sopravvivenza singolo! E' meglio terminarla lì! E' una squadra brutta! Se non la sanno usare va ancora più schifo! Eravamo partiti forse con il piede giusto! Forse! No! Se cominciamo così... Sono già quasi morti! Vediamo se io riesco a fare qualcosa! L'abbiamo ucciso! L'abbiamo ucciso! Grandi! Grandi ragazzi! Ce la puoi fare! Ce la puoi fare! Ce la puoi fare! No! Si è fatto uccidere corvo! Ma che cazzo però! Dove cazzo è che mi spara così? Grande grande grande! Curami! Ma che cazzo! Perché quello si fa uccidere sempre subito! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Perché quello si fa uccidere sempre subito! Aiuto! Io sono morto! Vabbè ormai si sa! E questo round l'abbiamo perso! Se ci concentriamo come primo però possiamo vincere! Dai! Possiamo vincere la partita! Io non la voglio perdere! Già corro è morto! Vabbè! Vabbè! Me ne sono accorto ora dopo pochi secondi! Ma va bene! Siamo morti anche noi! Ma vabbè adesso lui ovviamente ci farà morire dalla voglia di chiudere questo gioco! Ecco qua! Io ve l'avevo detto! Abbiamo perso questa partita! Buu! Gioco ancora! Ma con il cazzo che gioco ancora! Buu! Non so che missioni fare onestamente! Buu!